benvenuti a tutti buongiorno parliamo di big data e per connessioni parliamo di città che verranno di urbanistica legata al concetto di smart cities e parliamo appunto di questo enorme flusso di dati che ci investe ogni giorno che come i coltelli o la politica insomma sono dannosi o virtuosi e seconda di chi li usa. Io prima citavo nel nero un film che è The Social Dilemma di Jeff Orlowski in onda su Netflix attualmente che riguarda proprio il concetto dell'idea plastica della manipolazione delle menti attraverso il tronco encefalico e attraverso la manipolazione delle abitudini commerciali dovute proprio a una cattiva gestione dei big data che peraltro big data che possono essere anche big data all'americana strategie idonee per la sicurezza possono essere utilizzati per l'analisi genomica nella medicina possono essere modelli matematici ambientali sono tutto tutto quanto di positivo può produrre un buon uso del mezzo. Parliamo di questo con Massimo Arciulo a quale darei tutta la parola, lo presento comunque, è Cifra da Topfisher di Tim, ripeto un demiurgo dei dati e ha una serie di competenze smisurate che passano dal pricing all'applicazione della matematica a modelli economici e poi volevo chiedere a Darciulo e inizioniamo da lui in che cosa consiste l'applicazione della logica e della dialettica degli antichi greci poi e anche gheriana a questi modelli di business. Marco Trentini il nostro secondo ospite è direttore dell'Ufficio Statistica di Brescia è una delle prime persone che si è occupato, dei primi studiosi che si è occupato di big data e di statistica applicata ai comuni italiani al territorio quindi e grazie a Trentini per essere qui. Andrea Zinno che è Senior Sales Manager di Denodo Italia che è una grande azienda di formation technology ma soprattutto è una delle prime aziende di virtualizzazione dei dati e poi spiegheremo anche il concetto di virtualizzazione, grazie Zinno. E ultima ma non ultima Elena Granata, urbanista, professora associata al Politecnico di Milano e una delle maggiori esperte di Smart Cities in Italia e di Small City insomma poi vedremo anche i concetti di gentrificazione, si parte da un discorso molto più anche da Campanella e dall'utopia della città perfetta. Grazie e benvenuti a tutti partiamo col dottore Arciulo allora io sono curioso di vedere come riesce a impostarmi il discorso cioè applicare la logica egheliana al business legato proprio al team. Dottor Arciulo prego. domanda a freddo colpo colpo basso subito perché pensa a freddo con Hegel non è il massimo però però la risposta c'è mi è capitato mi è capitato quando ero giovane quando studiavo filosofia tentavo di prendere la seconda laurea in filosofia di sviluppare, facevo pricing all'epoca, di sviluppare poi soluzioni di pricing utilizzando alcune categorie della dialettica per la fattispecie il rovesciamento, la contraddizione del concetto e nel 99 inventammo l'autoricarica noi di team, lo feci proprio io all'epoca e utilizzando, stavo studiando, stavo facendo un esame di filosofia moderna all'epoca, stavo studiando quindi un rovesciamento e stavamo trovando una soluzione cercando una soluzione per rilanciare team perché ci attaccava a Vodafone all'epoca e facciamo questa cosa e fu un successo adesso non racconto tutta la storia della mia vita perché mi te direi fino alle 15 di domani pomeriggio però vi dico che poi nella fattispecie io da stazione sono matematico, sono economia e indirizzo matematico, poi studiando filosofia non mi sono laureato perché non ce l'ho fatta lavoravo troppo però ho studiato, continuo a studiare tantissimo la filosofia e nel corso della vita non solo l'ho applicata io ma ho visto applicare o non applicare alcune categorie della logica, della scienza della logica e ho visto fare errori da alcune aziende o che ho visto casi di successo io personalmente faccio un corso, ho fatto un corso nella precedente azienda, la Proste Italiana sono tornato in team, sono in un corso di logica di business dove associo, faccio vedere dei case industriali applicati con le categorie della dialettica che sono, poi lo vediamo dopo, probabilmente avremo qualche minuto che sono la totalità, il divenire, la contraddizione, il concetto, l'essere queste cinque categorie ci consentono in una situazione complessa, in una situazione estremamente competitiva di apparente caos, in realtà nel caos c'è un ordine che può essere messo a sistema evitando di stratificare complessità, evitando di aggiungere cose perché non si sa dove andare come dice Seneca e invece si tolgono degli elementi e si connettono ad alcune parti del sistema quindi l'architettura dati, riposte italiane, l'abbiamo fatta due anni fa, l'abbiamo fatta così adesso intimo la stiamo rifacendo così, quindi semplicemente mettendo il sistema utilizzando quello che c'è. Spero di aver risposto sinteticamente perché io sono pericolosissimo quando si parla di logica di business Ma adesso su team nello specifico come state adattando la logica e su quali prodotti? Noi stiamo, io sono SIF Data Officer, quindi mi occupo di una direzione che è nata pochi mesi fa quando sono rientrato in tema ad aprile e quindi è stato fatto uno spin off da una serie di strutture con il compito specifico di mettere l'ordine nei dati e orientarli ad alcune funzioni Lo chiedo, mi scusi dottor, perché da lì passano poi i dati dei cittadini quindi in questo momento interessa poi Passano i dati dei clienti che sono anche cittadini Quindi c'è un rapporto anche, qual è il vostro rapporto anche col cliente? È importante, adesso ricordiamo che ci sarà la rete FIIS quindi da lì il team sarà lo snodo sociale assoluto praticamente Ci fa molto piacere, siamo abbastanza fieri di avere questo compito storico di garantire all'Italia un tipo di sicurezza informatica e dei dati adeguata a quello che serve al paese e in questo momento noi stiamo lavorando come data office quindi come team con un approccio sistemico per i clienti quindi dobbiamo estrarre casso e satisfeccio dai nostri clienti e quindi utilizziamo i dati, ritorno alla domanda che mi ha fatto prima utilizziamo i dati, gli schemi logici dialettici per ritornare sul cliente, di individuare dei pattern più o meno descritti più o meno indescritti, di individuare dei needs invisibili condividere con il cliente e farlo più contento Questo è il lavoro primario che stiamo facendo e per questo stiamo utilizzando le famose categorie che accennavo prima Nella fattispecie, per quanto riguarda la domanda più sociale e politica che mi ha fatto noi i dati che abbiamo nei nostri cittadini, i dati che abbiamo soprattutto quelli della telefonia fissa, dove abbiamo la maggior parte dei dati mentre nella telefonia mobile ci sono 3 o 4 operatori per cui abbiamo una buona parte, siamo ancora l'operatore maggiore ma non siamo gli unici mentre su quella parte lì stiamo dedicando strutture di segregazione dei dati di privacy e di assoluta certificazione dei dati che devono essere permeati a qualsiasi altra struttura solo con il consenso del cliente quindi c'è un tema ortogonale rispetto al tema aziendale di un'azienda che deve fare flussi di cassa e che deve far sta bene i clienti c'è un tema ortogonale di sicurezza della nazione, dei paesi e dei cittadini quindi personalmente ho proprio una piccola direzione che lavora su un totemio che sia abbastanza stressata a cercare di garantire questa osmosi per far sì che non ci siano pieghe nel nostro lavoro spero di averle risposto Grazie, adesso rifacciamo il giro Dottor Trentini, io volevo chiedere appunto per passare al tema dell'uso delle nuove fonti dei dati per le attività di territorio, delle amministrazioni comunali che sono molto bistrattate ma in realtà si parte dal territorio tra l'altro tutte le nuove procedure che riguardano i fondi europei partono dal territorio, cioè ci sono 660 progetti il 40% dei quali viene proprio detto dagli enti comunali quindi capire l'importanza dei big data, delle iperconnessioni a questo livello Sì, il tema è sicuramente un tema se vogliamo che le amministrazioni stanno iniziando ad affrontare direi, ma un tema che adesso ha un suo sviluppo soprattutto sugli ambiti di misurazione dell'utilizzo della città sostanzialmente, anche nel caso di Brescia i primi utilizzi dei dati telefonici, tra l'altro dei due grandi competitor nazionali riguardavano proprio la capacità di analizzare la riuscita di alcuni grandi eventi che hanno un impatto sulle città e quindi la riuscita in termini non solamente di numero di partecipanti che forse è la cosa che all'inizio destra maggior interesse ma anche, ed è un tema che è legato anche ai ragionamenti che si facevano prima di tipo urbanistico di come le città si riempiono e si svuotano di come gli eventi si costruiscono nel tempo e nello spazio all'interno delle città quindi c'è un inizio di interesse che ha come focus il tema turistico dei visitatori ma io credo che in prospettiva su questo tema si aprano, sul tema delle nuove fonti si aprano delle prospettive molto interessanti allora le città sono via via infrastrutturate ovviamente a parte la fibra a casa insomma a parte quell'aspetto abbiamo ormai in tutte le città medio-grandi anche in alcune più piccole le reti di wifi che sono reti con le quali si può interagire sia fornendo servizi banalmente mandare comunicazioni a chi transita sia raccogliere dati e anche qui a livello micro-urbanistico su come si muove la città sapere per esempio se le persone vanno da destra si muovono lungo un percorso per esempio faccio l'esempio di Brescia dalla zona museale verso il centro o dal centro verso la zona museale non è un'informazione banale in termini di programmazione di quella che è anche sia le campagne comunicative ma anche la capacità di gestione della città quindi le nuove reti tecnologiche dicevo quelle ho parlato di wifi ma sono in arrivo le reti a bassa frequenza per i contattori quindi si apre il tema del metering io vedo quanto sta facendo per esempio a due Asmar City vedo in particolar modo Brescia ma in realtà poi anche in altre realtà che apre anche qui modalità di raccolta di informazioni interessanti rispetto ai consumi i consumi di acqua, i consumi di gas e così via che sono funzionali poi a quello che è e vengo alla seconda questione a quello che è l'utilizzo di questi dati a cosa servono dicevo le città devono affrontare alcune problematiche oggi diciamo la maturazione delle riflessioni e anche della disponibilità e della comprensione dell'uso di questi dati è rispetto al tema delle presenze e dei partecipanti intendo dire che spesso negli incontri che abbiamo avuto anche con le associazioni di categoria c'era una certa difficoltà nel capire come utilizzare per esempio i dati telefonici per dati che forniva che avevamo utilizzato al tempo era la griglia fornita da team una griglia a maglia molto fine e con una cadenza fine sia a livello territoriale che sia a livello temporale c'è stata una forte difficoltà nel far comprendere anche le associazioni di categoria come si potevano utilizzare questi dati anche per programmare le zone delimitare le zone commerciali per esempio e programmare quindi le problematiche della città oggi sono queste ma in futuro ovviamente ci saranno temi energetici non banali ovviamente e per i quali avere informazioni che transitano attraverso le reti e direttamente dai singoli consumatori e si possono raccogliere e lavorare diventa una strada importante sui social potremmo aprire anche qui invece molti ragionamenti perché quello è un altro grande tema che intercetta molto di più quella che è come dire la capacità di comunicazione che quindi è un aspetto che la politica presidia in maniera molto con un molto interesse ma è anche un tema importante rispetto a quello che sono la gestione per esempio degli eventi ritorno su questo tema perché è stata la molla che ha spinto poi l'amministrazione già dal 2013 a lavorare su questo tema individuare quali sono per esempio gli hub all'interno dei vari canali social che costruiscono il consenso l'informazione è per l'amministrazione una cosa molto importante noi abbiamo scoperto che per farvi un esempio che sulla mille miglia storica che è una grande manifestazione che ha un impatto sulla città rilevante gli hub erano esterni al sistema che aveva organizzato l'iniziativa cioè erano l'appassionato che aveva costruito tutta una rete di collegamenti e una casa automobilistica molto importante che aveva deciso di investire quindi un tema che diventerà sempre più importante le reti diventerà più importante si apriranno nuovi ambiti al di là di quelli tradizionali che dicevo della presenza sul territorio cosa serve cosa manca alle amministrazioni la mia esperienza è che alle amministrazioni manca una struttura interna che sia in grado di parlare con gli esperti che oggi si trovano nel mondo delle imprese e nelle università sono i due ambiti nel quale oggi perché perché noi siamo qua e quando vogliono noi siamo qua noi con voi abbiamo già lavorato i dati i dati glielo ho dati sono quelli che dicevo prima glielo ho dati glielo ho dati sì sì li avete dati voi poi anche un'altra compagnia ma diciamo però ecco prendo punto da questa da questa battuta del dottore Arciulo le compagnie telefoniche a parte la difficoltà oggi non ho ben capito se i rodata ce li forniscono ma credo di no 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 interessante questo forniscono già e si stanno orientando sul mercato a fornire i prodotti su MEPA per esempio troviamo i pacchetti già pronti di un concorrente che nascono negli ultimi anni bene è chiaro che i pacchetti hanno costi non banali per un'amministrazione comunale anche di medie dimensioni è chiaro che non siamo di fronte a prodotti ormai già come dire ingegnerizzati completamente l'esperienza di alcuni grandi comuni cito Firenze per esempio è quella che in questa fase c'è ancora bisogno di un lavoro di taratura per esempio di alcuni modelli che vengono utilizzati so che adesso per esempio sulla georeferenziazione dei device so che state facendo passi avanti sui GPS e su tutto l'utilizzo di altri elementi però serve comunque una messa a terra di alcune cose e serve soprattutto la capacità delle amministrazioni comunali di capire che cosa hanno di fronte questo si può fare cioè di non rivolgersi all'azienda chiedendo un prodotto spesso succede che l'amministrazione ha un'esigenza l'azienda fornisce un prodotto il prodotto viene acquistato ma non funziona nel senso che l'amministrazione voleva altre cose allora serve qualcuno e io torno diciamo un po' diciamo sui temi tipici essendo presidente dell'Unione Statistica dei comuni italiani cioè che un investimento interno alle amministrazioni con questa funzione non penso che oggi le amministrazioni comunali abbiano le infrastrutture tecnologiche e le competenze per riuscire a fare in casa ci avevamo tentato con i dati di Telecom non ci siamo riusciti e siamo il comune di Brescia cioè un comune che ha una struttura anche informatica abbastanza evoluta quindi questo non è pensabile però avere qualche scusi perché non ci siete riusciti dottore? Quale è stata perché avevamo macchine avevamo installato i sistemi per l'elaborazione sulle macchine di produzione e erano ancora sottodimensionate rispetto alla mole di dati che ci aveva fornito non sia Telecom sia Team sia un altro concorrente che ci aveva fornito dati ancora di un livello più basso in questa sperimentazione che facciamo nel 2013 quindi non credo che l'infrastruttura oggi disponibile in un comune di media dimensione quindi mi figuro quali più bassi possa reggere questo tipo di flussi di dati però delle competenze chiamiamole abbiamo detto data scientists chiamiamole come vogliamo statistiche e così via credo che siano importanti proprio per riuscire a parlare con le università e col mondo delle aziende qui mi chiudo se no vi porto un po' di tempo interessante a proposito di competenze io passerei ad Andrea Zinno io vorrei capire appunto che livello di competenza serve ormai per la virtualizzazione dei dati e spiegare anche a chi ci ascolta che cos'è la virtualizzazione dei dati sì certo volentieri Francesco faccio solo un piccolissimo passo indietro che poi spero aiuti un po' a portarci verso il concetto della virtualizzazione ma verso il concetto più generale di come usare i dati in modo agile in modo veloce considerando appunto come dicevi tu all'inizio ormai dati sono tanti etereogenei e cambiano rapidamente quello che noi vediamo spesso è che come dire si parla di dati forse trascurando un po' troppo certi aspetti che invece stanno diventando preponderanti soprattutto all'aumentare la velocità all'aumentare del volume della velocità dei dati non parlo tanto di aspetti tecnici cioè come connettersi a dati etereogeni che per quello di cui stiamo qui discutendo sono fondamentali dopo so che si parlerà anche delle smart city pensate solo ai servizi che si possono dare all'interno di una città pensate ai servizi per la mobilità che si devono come dire approvvigionare non solo di tanti dati differenti ma lo devono fare in real time non è pensabile che si forniscano servizi basati su dati anche di un minuto precedente soprattutto su città caotiche e grosse come per esempio può essere Roma quindi qui il problema non è tanto dell'aspetto tecnico di connettersi a sorgenti eterogeni ma quanto diciamo di rendere gli utenti consapevoli dell'esistenza di certe informazioni se ne parla da tanto quello che noi osserviamo è che spesso questa suddivisione in silos come dicono gli americani dei dati cioè il fatto che all'interno di un'azienda soprattutto grande in realtà il dato non come dire non fluisca così come dovrebbe fluire sapete c'è sempre la sindrome il dato è mio e lo gestisco io che ovviamente non è risolvibile con una soluzione tecnologica ma è un problema organizzativo e culturale però è ovvio che la tecnologia deve dare una mano quindi c'è un aspetto fondamentale nell'uso del dato che è quello di trovare soluzioni che consentano diciamo idealmente di creare un punto unico di accesso al dato dove tutti possano accedere e consultare quello che è effettivamente disponibile per evitare banalmente duplicazioni per evitare di creare lo stesso dato più volte cosa che tutt'altro che infrequente e l'altro aspetto fondamentale è nel momento che io riesco idealmente a creare questo punto unico di accesso anche un ottimo punto per creare quello che adesso si chiama modello semantico unificato una volta si chiamava ontologia ora quando parliamo di significato è un tema molto molto complesso si vorrebbe oggettivizzare il significato in realtà sappiamo benissimo che ci sarà sempre poi una componente privata non dico di ciascuno di noi però all'interno di un'azienda che ogni divisione di business ha la sua accezione anche su concetti che sembrano trasversali la possibilità di avere una tecnologia che consenta anche di centralizzare non solo l'accesso ma anche di rendere evidente quali sono i dati a disposizione come sono fatti da dove provengono qual è la logica della loro composizione quando io creo dei dati che sono estremamente complessi pensate a dati come cliente prodotto cittadino sono clienti che normalmente si compongono di tantissimi dati che provengono da tantissimi sorgenti quindi questo è un po' lo scenario dove ci si dovrebbe muovere forse più di quanto ci si muova la virtualizzazione dei dati è un approccio che diciamo lavora su questo scenario con l'idea di diciamo due essenziali sono due essenzialmente i pilastri fondamentali allora uno è quello di separare logicamente e fisicamente il dato cioè l'idea è quando noi lavoriamo con i dati ci sono essenzialmente due momenti un momento in cui si lavora sul significato sulla rappresentazione sulla componente logica quindi vogliamo semplicemente capire quali dati sono a disposizione come sono fatti perché dobbiamo cercare i dati che ci servono a noi per i nostri obiettivi in questa fase ovviamente io non ho la necessità di avere il dato fisicamente disponibile quindi se lavoro sul concetto di cliente voglio vedere se il cliente così come è stato definito ha una rappresentazione che per me va bene a me in quel momento non mi serve avere l'elenco di tutti i clienti della mia azienda perché non ci farei nulla mi serve sapere semplicemente come qualcuno prima di me ha definito il concetto del cliente una volta che trovo il dato che a me va bene allora ovviamente in quel momento poi dovrò accedere effettivamente ai dati perché devo fare le mie elaborazioni devo trarre le mie conclusioni quindi questo è uno degli aspetti fondanti della data virtualizzazione quindi separare i due aspetti un po' come quando una volta si andava in biblioteca prima si guardava il catalogo e poi una volta trovate le opere di interesse si prendevano i libri e fisicamente si portavano sulla propria scrivania l'altro aspetto che è molto legato a questo è che laddove possibile la data virtualization cerca di eliminare la copia e lo spostamento fisico dei dati per chi ha diciamo più esperienza in ambito tecnico voi sapete che un approccio tradizionale è quello del data warehouse dove diciamo si estraggono i dati dai sistemi di interesse si applicano delle procedure di trasformazione si portano i dati in un contenitore unico che è appunto il data warehouse e lì quello diventa anche il punto dove ci sono fisicamente dati ma anche il punto dove viene poi rappresentato il significato dei dati che sono presenti i famosi metadati come si usa ancora ovviamente adesso ecco questo approccio va ovviamente bene continua ad andare bene però in certi contesti inizia un po' a prestare il fianco a qualche critica perché quando i dati si muovono molto velocemente il continuo allineamento del data warehouse inizia a essere costoso allora l'approccio della data virtualization è va benissimo usare dati che sono un data warehouse o un qualsiasi sistema di rappresentazione intermedio ma ci sono casi dove questa cosa io non posso permettermela e allora devo avere uno strumento che mi permetta di andare a prendere i dati laddove effettivamente sono che siano sistemi operazionali come si usa a dire o altri sistemi in modo tale che evito di copiare i dati cosa che da un lato mi libera risorse ma dall'altro mi risolve i problemi della freschezza del dato perché ripensando se io voglio fare di analisi di quello che è accaduto pochi istanti fa beh un approccio basato sulla sincronizzazione periodica dei dati ovviamente non va bene a meno che io ogni secondo non perdo tempo a risincronizzare quindi la virtualizzazione essenzialmente riassumendo l'obiettivo è dare agilità alla gestione dei dati operare questa separazione logica fisica e cercare per quanto possibile di ridurre se non addirittura eliminare ma credo sia un traguardo irraggiungibile queste operazioni di copia e spostamento del dato i dati come dite voi spesso dati come carburante della conoscenza quindi questo è il concetto fondamentale io volevo chiedere però prima di passare alla professoressa Granata perché il tema poi lo spostiamo sullo smart city volevo un commento anche dal dottor Alciuro su questa cosa qui cioè sul concetto della virtualizzazione dei dati e aggiungerei anche dato che siamo è molto una domanda molto mainstream siamo alla vigilia di una grande almeno ci dicono da qualche anno rivoluzione che è quella del 5G che non so se partirà quando partirà eccetera e poi nella gestione dei dati soprattutto voi operatori e team operatore principe in Italia come vi state comportando come vi state attrezzando perché lì c'è un discorso anche filosofico dentro nella gestione dei dati della privacy si parla di Cina e di operatori che vengono bloccati Trump ha bloccato tutto in America insomma non mi faccio a dire cose pulibili no no l'ho detto io lei non dica niente però la chiodo l'ho fatta siamo siamo no chiedo a Dario innanzitutto cercherò in tre minuti di andare di prendere due delle charte che ho preparato perché alle cose che hanno detto sia Trentini sia Zinno rispondo alla sua domanda questa sulla virtualizzazione beh il concetto di VH certo che che ormai sta lì è la rappresentazione dei dati legacy che non può essere superata in alcun modo ma la plasticità dei dati anche attraverso la virtualizzazione è la plasticità che che deve andare nel data lake che per gravità nel data lake è lake cioè ci va l'acqua così com'è per gravità sull'asse Z la butta giù ma non basta perché qui riprendo la cosa che diceva prima tra le righe che diceva Trentini il tema è cosa farci per questo io utilizzo la filosofia noi utilizzo la filosofia perché devi capire i pattern altrimenti sempre come dice Senega uno non sa mai dove andare prende tutto ammocchia tutto qualche collega ogni tanto mi chiede mi ha chiesto ultimamente 1200 gpi per fare un progetto perché non sapeva cosa doveva farci ovviamente l'ho mandato indietro io ne ho fatti 80 dico ma tu che devi fare mi ha chiesto 1200 quindi il tema è vedere sempre a salire andare di astrazione quando Trentini diceva dobbiamo imparare noi che cosa fare sì la prima cosa è fermarsi fermo sempre tutti i progettifici nell'azienda come anche credo nelle amministrazioni locali fermo i progettifici che sono il nemico del fare anche del fare errori perché il fare errori se è fatto una direzione è un errore sano il tema è poi ritorno sulle charte velocissimamente per dare una risposta è virtualizzazione integrazione ma visualizzazione di un'idea noi dentro team abbiamo fatto una dentro data lake abbiamo il dvh il data lake e sopra il data lake abbiamo visto una pista un modello dati abbiamo chiamato genomics un modello dati del cliente che va a vedere i genomi del cliente dove è lì la parte human cioè la parte platonica dell'idea del cliente viene materializzata va in execution sulla scelta di KPI perché il cliente che faccio mi prendo la larghezza dell'orecchio mi prendo quanto è in banca oppure quanti passi fa sotto casa sua o se ha un cane o un gatto qui c'è la parte human che deve necessariamente interpolare cablare dentro la parte fisica dei dati questi enormi dati poi parliamo del 5G velocemente deve metterci un'idea che cosa voglio fare col cliente devo farci la distraction qual è il divenire del cliente che cos'è il cliente oggi lo devo identificare devo estrarre dei petter nei modelli suoi cromosomici e poi vado a vedere che server altrimenti io prendo tutto e lo diceva qualcuno prima prendo tutto o ci faccio nulla continuate a mucchiare nei miei server poi pagherò un sacco di soldi per andare in cloud per gestirli per gestirli e invece no io dico less is more devo identificare i petter per sapere cosa devo fare velocemente se Dario mi sposta avanti la cosa io l'ho scritta qua Seneca dice non c'è vento favorevole per il marinaio no un po' un po' indietro Dario per favore non c'è vento favorevole per il marinaio non sa dove andare parliamo di Data Cities e Connection quello che diceva prima Trentini generalmente se ho capito bene ma penso di sì sono mi consenta c'è una è una serie pertinente assolutamente opportuna di automazioni oggi siamo in un momento in cui si deve andare oltre lo possiamo fare dobbiamo identificare da quelli famosi spostamenti delle mappe se il cliente il cittadino da Brescia va Brescia Nord Brescia Sud Brescia Ovest va in palestra e quella è una descrizione statistica visto che la statistica è statistica descrittiva dobbiamo da questi spostamenti della statistica descrittiva inferire invece dei suoi comportamenti dei suoi modelli che non sono inferibili in termini di automazione per questo siamo abbastanza focalizzati come team nell'identificare dei pattern sulla nostra clientela per conoscerla bene per aiutarle la nostra clientela conosce Bezos su Amazon e estrarre e lui dice tu hai tre client tu no what they ask for they don't know to ask for che è una cosa che non sanno ancora di chiedere domani e quindi io vado velocissimo perché abbiamo poco tempo altrimenti c'è la tutta ma ha citato Bezos ha citato la maieutica quindi va benissimo vedo che siamo su quella linea Bezos fa sul serio lui la filosofia la applica proprio va dritto dritto va dritto proprio quindi automazione vado veloce a concetti e titoli automazione di la trentina prima benissimo ma pattern e oggi dobbiamo fare questo andiamo avanti Dario per cortesia ecco qua due cose voglio dire due cose di quelle che facciamo noi e questo è un fessio di statistica la statistica si applica sul big data ci sono anche molti miei analisti credo connessi oggi sono brevissimi e la statistica fa inferenze cioè individua delle features delle correlazioni delle relazioni nel mondo è molto complesso quando si è in possesso di moltissimi dati nel caso delle cities delle grandi città si deve e si andrà si va già verso questo contesto prendere i dati come dicevo prima spero che si fatano con un'ottica specifica con una funzione proprio platonica un'idea di servizio che c'è in mente e poi con questa idea si scende e si scelgono i KPI da mettere nel data lake altrimenti ci va tutto e non serve a niente ci va il tutto che non è un tutto cioè manca il pensiero in questo caso quando avremo questi dati ritorno sulla statistica noi come tema stiamo facendo un passo in avanti già siamo sulla POC già siamo sul trial stiamo utilizzando gli spazi rimaniani che è matematica molto complicata complicatissima ma non ci sono versi non c'è lo stiamo facendo con l'aiuto dell'Università di Cagliari peraltro e questa cosa è un passaggio difficile necessario ma è obbligato per riuscire a vedere le relazioni che ci possono essere tra i miei clienti che in termini euclidei in termini lineari non emergono e invece in termini con una geometria adesso non vi dico non vi parlo di lima ma ovviamente con la geometria differenziale riesco a proiettare tutti i dati dei miei clienti li proietto su delle superfici curve che sono l'espressione di quello che voglio fare io con il cliente soggettivamente riesco a trovare delle relazioni che altrimenti riesco a trovare nelle smart city io posso trovare delle relazioni tra i miei cittadini che hanno dei servizi che ad oggi sono invisibili e non emergono e non emergono dall'automazione delle mappe che io ho dato a Trentini che mi hanno dato a Trentini non emergono con una semplice analisi ma c'è bisogno di un salto della statistica visto che questo è la statistica che deve essere una statistica di teoria differenziale questo è il primo messaggio che voglio dare il secondo che per niente vai avanti Dario per cortesia vado sull'ansia perché vedo che il tempo passa quindi vado velocissimo qui randomicamente sono le cose che ho tentato di dire prima provo a dirle in 22 secondi in modo ordinato abbiamo molti dati le aziende stanno spendendo molto molto generosamente fanno bene le architetture le architetture le risposte che vengono date dai vendor quindi da chi produce tecnologia o dai consulenti dagli strateghi in genere è sedimentare architetture sommarle metterle mettere sul tavolo avere come i bambini in pasticceria vogliono tutto questo sta creando indeterminazione lo ho scritto in inglese comunque indeterminazione sta generando sta impedendo il decollo in alcuni contesti quindi quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo stiamo cercando di utilizzare quello che c'è vedendo utilizzando la categoria di eraclito del divenire vedendo le nostre le nostre unità industriali che contattano che hanno relazione col cliente quindi le sonde di interazione del cliente le sonde di contesto le stiamo vedendo non dobbiamo aggiungere nulla dobbiamo soltanto vedere i KPI cioè le metriche del cliente che interessano dobbiamo vederle pensarle noi di marketing e quelli di persone soggetti di marketing commerciali sociologici strategici questi insieme di attitudini devono individuare queste metriche e farle esprimere da ciò che già c'è non bisogna inventare non bisogna stratificare niente la complessità è tutta nell'individuazione logica che è un momento necessario maieutico necessario precedente a tutto lo sviluppo del business altrimenti si fa un casino ecco questo è quello che ho tentato di scrivere in questa chat bisogna togliere gli investimenti e le tecnologie e i flussi che aggiungono soluzioni locali ma chiedo a Dario di andare avanti di andare avanti ma di utilizzare qui ho velocemente ho citato ho scritto le categorie che noi utilizziamo ho scritto tra tutte in inglese comunque sono l'essere lo spirito l'idea la totalità è ovviamente il divenire faccio un esempio del divenire e vado avanti così concludo pure Dario andate avanti per contasia cosa sei più carino dura un minuto ma è molto carino sto facendo un corso di scienza della logica che non aveva niente a che fare con l'architettura dati per spiegare la categoria del divenire ai miei alunni un post italiano nella precedente azienda l'ho fatto tre anni due anni fa in questo corso stavo spiegando questa cosa dico guardate il divenire guardate il caminetto e poi guardate il televisore sono diversi sono fondamentalmente diversi quello emette fuoco emette calore e quella è l'immagine è la stessa cosa l'essere è la stessa cosa aggrega la famiglia dopo cena guardate ho spiegato questa cosa molto carino nel frattempo stavo lavorando sull'architettura dati e c'è il problema che accennavo poco fa mi esammucchiavano cose mi esammucchiavano cose e invece ho detto fermi tutti applichiamo il divenire applichiamo il divenire nelle nostre unità e che diventano solo già un'unità che parla col cliente una piattaforma Oracle che ingaggia col cliente o una piattaforma Adobe che sta sul web e prende il cliente è già un'unità primaria di automazione è già in sé divenire un essere un'unità e come è finita dottore Scusi perché sennò non parla la professoressa Granato ho finito ho finito e alla fine i suoi studenti hanno imparato ma soprattutto ci ho fatto l'architettura ho fatto l'architettura quindi ho tolto tutto ho preso tutte le mie unità industriali le ho elette le ho primarie innovazioni ho fatto un data lake ho preso i flussi ho visitato e abbiamo fatto il data lake abbiamo iniziato a fare inferenze e la stessa che lo stiamo facendo adesso in team in team con un po' più di diversità tecnologica questa è l'esempio è la risposta che le ho data quando lei mi ha chiesto all'inizio ma come fa ad utilizzare eccolo con questo abbiamo risparmiato investimenti e sappiamo esattamente cosa fare in quattro mesi abbiamo fatto due campagne sui clienti fissi lei ha recepito anche un insegnamento probabilmente inconsciamente io ne l'avevo già detto telefonicamente con Luciano De Crescenzo allora è tecnico capo dei tecnici informatici ingegneri informatici dell'IBM che applicava le stesse categorie poi in realtà De Crescenzo si è dedicata alla scrittura ma insomma sono queste sono sempre valide lei dimostra che sono valide applicabili sempre la ringrazio perché è molto illuminante professoressa Granata passiamo alla seconda parte del tema big data ma anche città che verrà come cambia come è cambiata il concetto di small city e anche di smart city con l'arrivo imprevisto di questo covid che ha travolto tutto e tutti quindi le città si sono ridimensionate inevitabilmente non siamo più ai tempi di campanella assolutamente allora intanto volevo tirare la palla a Marco Trentini che diceva quanto è difficile capirsi quando parliamo di questioni così tecniche quanto la mediazione linguistica ma anche culturale sia difficile persino come dire in un piccolo gruppo come il nostro di persone peraltro dedite all'argomento e questo voi immaginate moltiplicato per 8.089 comuni che devono capire attraverso i dati che cosa decidere sui loro territori e quindi la partita è complicatissima e quindi per non sottrarmi alla domanda aggiungo complicazione alla complicazione che è questa urbanisti sociali e politici ci hanno messo circa 15 anni a capire che cosa fosse smart city e quindi connessioni mobilità interazioni intelligenza del sistema possibilità di stare da remoto smart working quando ben ci sembrava di aver capito cosa fossero le smart city non capiamo più che cosa sono le city nel senso che negli ultimi sette mesi è cambiato il mondo ci è cambiato il mondo davanti agli occhi e quindi ci siamo resi conto che quell'assetto urbano sul quale abbiamo pensato le smart city ma abbiamo pensato l'idea di welfare abbiamo pensato l'idea di scuola di istituzioni di politica di amministrazioni ecco in sette mesi è cambiato allora oggi per chiunque si recchi soprattutto in una grande città in una grande metropoli e la narrazione oggi su Londra su New York ma anche su Milano in parte non comparabile anche Roma ma pensiamo soprattutto in Italia a Milano noi ci troviamo di fronte a un manufatto urbano straordinariamente sovradimensionato rispetto agli stili di vita che cosa significa una cosa molto banale per chi di voi arrivi a Milano ci rendiamo conto che ci sono troppi taxi troppi troppi perché prima eravamo abituati a muoverci a muoverci in tanti e a muoverci sempre e oggi la città si muove meno si muove diversamente pensiamo un dato che ovviamente in queste settimane anche in queste tre sessioni di lavoro abbiamo commentato varie volte tra i sei e gli otto milioni di lavoratori in lavoro agilo smart working beh questo ha significato in questi sette mesi ma significherà anche nei prossimi mesi un cambiamento assolutamente radicale degli assetti urbani cosa intendo per assetto urbano come la città è fatta costruita e funziona e voi capite che il mio sindaco Beppe Sala ripetutamente in questi mesi ha lanciato degli allarmi tornate al lavoro come se potessimo tornare all'assetto precedente di fronte all'avere dei centri urbani soprattutto i grandi grattacieli soprattutto i centri dirigenziali questo succederà anche a Brescia a Bergamo che erano stati pensati per concentrare masse di lavoratori e in particolare la direzione delle grandi aziende nel cuore delle città beh oggi ci rendiamo conto che questo impianto potrebbe cambiare completamente o meglio essere dismesso prima ancora di essere entrato in funzione e questo è tutto il paradosso dei grandi grattacieli milanesi non li abbiamo ancora inaugurati e già ci rendiamo conto che quella forma urbana non collima più con la forma dei nostri comportamenti e allora la domanda fondamentale di questo essere sovradimensionato è proprio come se avessimo immaginiamo ci parlo per un pubblico magari che è meno avverso alla tecnica immaginiamo di avere un vestito troppo grande in un corpo che è dimagrito in un corpo che è dimagrito e che paradossalmente può vivere abitare in ogni luogo ma se può vivere lavorare abitare in ogni luogo è chiaro che non sarà più un cittadino in senso stretto delle nostre città e ribadisco questo non lo vediamo soprattutto nelle grandi metropoli è la tragedia in questo momento e anche la domanda di senso di dove stiamo andando cosa succederà io fra un paio di settimane comincio l'anno accademico con i miei studenti e verosimilmente avrò un terzo degli studenti nell'aula e due terzi dei miei studenti ovunque possono essere al paese di origine possono essere al sud possono essere all'estero beh voi capite che questo sta cambiando completamente l'idea di accessibilità mobilità turismo persino i city users quei benedetti city users inventati da Martinotti tantissimi anni fa alla bicocca quelli che vengono in città perché in città trovano servizi tempo libero il teatro e beh oggi li vediamo meno in città eppure le città sono caotiche eppure c'è confusione eppure c'è un movimento scomposto di persone di merci e di dati sui nostri territori che ci richiede ancora di più di essere interpretato cioè paradossalmente sette anni fa avevamo finalmente raggiunto una coincidenza astrale per cui ci potevamo intendere l'assetto era quello gli uffici una città del terziario grande mobilità pensiamo cos'è stato la grande stagione del turismo le grandi piattaforme di attrazione del turismo Airbnb Booking ecco oggi noi ci troviamo di fronte al fatto che le persone si muovono meno si muovono in maniera che ancora non conosciamo dove vanno dove va chi va ecco è chiaro che in questo momento produrre dei dati che ci diano informazioni su come sta cambiando il mondo diventa cruciale per le grandi amministrazioni e c'è un punto di domanda colossale che fa appunto gridare alla città è finita penso appunto al mio sindaco immaginare che improvvisamente andremo a vivere nei borghi andremo a vivere nelle città medie che ci sarà una riallocazione delle persone sul territorio e quindi che si portano dietro attraverso i loro corpi la domanda di servizi altrove ma ancora non riusciamo a capire dov'è questo altrove se è un polviscolo di territori più o meno legato alla biografia individuale o se ci saranno dei comportamenti che portano fuori dalla città condivisi traiettorie e quindi potrebbe essere la campagna prossima alle città sì come ecco queste ovviamente sono domande che nascono dall'urbanistica interpellano i dati e chi produce i dati perché oggi penso che siamo ancora più desiderosi di capire dove va il mondo e che però ci mettono di fronte a un smuttamento delle nostre categorie interpretative ed è successo esattamente così vent'anni fa se voi avete in mente che cos'è stata la grande delocalizzazione delle fabbriche all'estero con l'esternalizzazione delle attività fuori dall'Italia se avete in mente che cos'è stata la grande crisi industriale noi in grandi territori penso a Prato penso a Biella penso anche a parti del sud in parte industrializzate ci siamo trovati da un mese con l'altro perché anche lì il collasso è stato subitaneo ad avere una forma della città che non corrispondeva più con la nostra economia e i nostri comportamenti ancora oggi noi se mi è capitato di recente di andare a Biella territorio del Tessile voi avete questi dinosauri abbandonati che sono stati un pezzo fondamentale della nostra storia la storia dei nostri distretti industriali e che sono ancora lì sono ancora lì giacenti sul territorio e quindi l'assetto è rimasto quello ma la vita di quei territori non è più quella siamo di fronte siamo alla vigilia di un cambiamento dal mio punto di vista pari a quello di vent'anni fa e quindi un cambiamento che magari non vedremo tutto ad un colpo che avrà delle forme diverse già lo stiamo vedendo sulla trasformazione minuta del commercio i tempi di vita la pausa pranzo dico cose banali perché sono banali ma accessibili all'esperienza di chi mi ascolta i grandi uffici chiamano con sé attività chiamano con sé mobilità di persone domande politiche il non muoversi delle persone chiaramente cambia le stesse domande politiche e pone alla politica la necessità di guardare lontano di guardare lontano e mi rivolgo in particolare a Trentini è difficile oggi capire in che modo quali dati chiedere e in che modo di interpretarli per dare una direzione a un mondo che naturalmente ci sta cambiando sotto i polpo a strelli resta un problema che non è soltanto quello di comprensione dei fenomeni ma anche di utilizzo poi dei dati ogni volta che mi sono misurata con le amministrazioni ma non solo io lavoro soprattutto in ambiente pubblico in ambito pubblico quindi è quello un mondo di riferimento c'è un'iperproduzione di dati e un'incapacità di sapere che farsene dei dati perché la questione è sempre essere guidati dalla domanda e qui ovviamente concordo con Massimo è la domanda filosofica dove sto andando che me ne faccio dei numeri che me ne faccio dei dati e allora ci sono dei dati che immediatamente sono comprensibili a tutti e ci sono dei dati che invece non ci sono conoscibili chiudo e poi magari passiamo a qualche altro argomento se ci sono delle domande pensate che cos'è il numero simbolico oggi più simbolico per Milano che è la politica annunciata dall'amministrazione e da Stefano Boeri di riforestare la città con un milione anzi tre milioni di alberi ecco questo è il classico numero simbolico che non vuole dire niente dal punto di vista matematico non vuole dire niente neanche dal numero dal punto di vista di quanti alberi riusciremo in dieci anni a piantare ma è il classico numero che indica la direzione è il classico dato capace di scatenare l'immaginazione e di prefigurare in che direzione potranno andare le nostre città la ringrazio dunque a me sarebbe piaciuto continuare su questo discorso sul fatto di come reagiranno i comuni alla rappresentazione dei centri urbani come tante piccole nature morte industriali di Sironi ed è un concetto abbastanza plastico poi va richiesto anche volentieri sui dati Massimo Arciullo e Andrea Zinno però credo che mi stanno segnalando in questo momento che abbiamo il tempo di situazione è scaduto come si dice nelle migliori famiglie vi ringrazio credo che faremo argomenti faremo altre discussioni di questo genere nei prossimi festival e nelle prossime conferenze sarei estremamente interessante da parte di tutti grazie grazie degli interventi ringrazio Marco Trentini Massimo Arciullo Andrea Zinno la professoressa Nella Granata grazie a voi e buon proseguimento e buon lavoro e alla prossima grazie grazie buon lavoro anche a voi grazie grazie grazie